Molto bene, consideriamo adesso il seguente problema. Potrebbe essere una parte di un problema di maturità, naturalmente semplificato. Sostanzialmente ci viene data una funzione f che dipende da tre parametri ABC e nel punto A ci vengono date le condizioni per determinare questi tre parametri. Il punto B ci dice che una volta che hai trovato questi tre parametri, traccia il grafico probabile. Quindi questo esercizio qui lo lascio a voi. E poi andiamo a fare insieme la determinazione della rete tangente al grafico nel punto di ascissa x uguale a 0. Allora, la prima cosa è che dobbiamo determinare i parametri ABC in modo che f sia dispari. Dispari vuol dire che f di meno x deve essere uguale a meno f di x. Quindi noi abbiamo che meno ax più b fratto cx al quadrato più 1 deve essere uguale a meno ax più b fratto cx al quadrato più 1. Ora, non l'ho detto ma osserviamo che il dominio della funzione è tutto R quindi questa uguaglianza deve essere vera per ogni x appartenente ad R. Allora, possiamo semplificare il denominatore, possiamo semplificare anche ax con ax e otteniamo sostanzialmente 2b uguale a 0, cioè b uguale a 0. Quindi, attenzione che la condizione che la funzione f sia dispari implica che b sia uguale a 0. Poi, dobbiamo imporre la condizione che abbia due punti di flesso in corrispondenza di x uguale a più o meno 1. Allora, attenzione, noi imporremo soltanto una delle due condizioni perché l'altra è automatica, essendo la funzione dispari. E poi, l'ulteriore condizione è che la tangente in x uguale a 1 abbia pendenza 1 quarto. Allora, andiamo a vedere come ho svolto con Maple questo problema. Allora, abbiamo la nostra funzione dove il b l'abbiamo messo uguale a 0, calcoliamo la derivata della funzione, la derivata della funzione è questa, dopodiché, attenzione, ricordiamoci che il testo che in x uguale a 1 la derivata prima deve essere uguale ad 1 quarto. Quindi, x uguale a 1, mettiamo la derivata prima uguale a 1 quarto e quindi otteniamo questa prima equazione che esprime il fatto che la derivata prima in 1 sia uguale a 1 quarto. Adesso dobbiamo andare ad imporre le condizioni di flesso. Allora, facciamo la derivata seconda per determinare il flesso. Vogliamo che si abbia un flesso in x uguale ad 1. Va bene? Quindi andiamo a mettere x uguale a 1 con derivata seconda uguale a 0, otteniamo questa equazione. Poi, sono andato anche a mettere x uguale a meno 1, però abbiamo già detto che è superfluo. Alla fine, abbiamo la condizione sulla derivata prima, la condizione di flesso e otteniamo queste due condizioni. Ora, il libro esclude il caso c uguale a 0 come caso banale. Perché? Perché quando c è uguale a 0, viene fuori una retta, no? La retta di equazione f di x uguale ad ax. Ora, le rette sono funzioni naturalmente sia convesse che concave. E sono funzioni per cui a questo punto tutti i punti possono essere punti di flesso. E allora, secondo l'autore del libro, questo caso va escluso. Potevi dirlo anche prima, diciamo, prima di iniziare l'esercizio. Comunque, prendiamo, supponiamo che a sia uguale a meno 2, che c sia uguale a 3. Va bene, vogliamo scrivere l'equazione della retta tangente, andiamo a rivederla, in x uguale a 0. Allora, ci calcoliamo l'f di 0, va bene, ci andiamo a calcolare la derivata prima in 0, che vale meno 2. E quindi l'equazione della retta sarà y meno f0 uguale a meno 2 per x meno 0. E quindi l'esercizio risulta essere completato. Ricordo, lascio a voi di tracciare il grafico probabile della funzione. Molto bene, risolviamo questo quesito 6 di maturità dell'anno 2015. Se f è la funzione definita per tutti gli x reali, da determinare il minimo di f. Allora, cosa dobbiamo fare? Naturalmente, essendo una funzione derivabile, eccetera, dobbiamo andare a calcolare la derivata prima di x e metterla uguale a 0, cioè andare a determinare i cosiddetti punti stazionali, anche perché siamo su tutto r. Allora, naturalmente uno potrebbe preventivamente andare a sviluppare e poi fare la derivata prima, oppure dire, ma applichiamo subito la derivata prima, l'espressione, senza sviluppare. Quindi abbiamo 2x meno 1 più 2x meno 2 più 2x meno 3 più 2x meno 4 più 2x meno 5. Adesso 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si semplificano, visto che c'è 0. E quello che si ottiene è x uguale a 10. Allora, cosa si vede? Si vede che la funzione deve decrescere a sinistra di 10 e deve crescere a destra. Quindi 10 effettivamente risulta essere un minimo. Al seguente problema, si dimostri che ogni funzione di terzo grado, dove a, b, c, d sono valori reali con a diverso da 0, ha un massimo e un minimo relativi, oppure non ha estremanti. Estremanti vuole anche dire che non ha punti di massimo e di minimo. Ora, qui attenzione che estremanti vuol dire che non ha punti di massimo e di minimo. Allora, naturalmente quello che noi facciamo è la derivata prima, x al quadrato più 2bx più c, dove attenzione che a deve essere diverso da 0. Quindi si tratta di una funzione di secondo grado. Ora, se noi andiamo a studiare, diciamo, il... Per esempio, supponiamo che a sia maggiore di 0. Poi se a è minore di 0 è la stessa cosa. Allora, qui possiamo avere il caso in cui il delta è maggiore di 0, quindi vedete che ci sono due punti, x con 1 e x con 2, due punti stazionari, e naturalmente uno è di massimo e l'altro di minimo. Perché? Perché la derivata prima cambia di segno attraversando i punti. Nel caso in cui il delta sia uguale a 0, allora questa soluzione doppia non è né massimo né minimo ed è un flesso, perché, per esempio in questo caso, la derivata prima è positiva e quindi la funzione cresce attraversando sia a sinistra che a destra, attraversando il punto x1 e x2. oppure il caso in cui il delta sia minore di 0 e allora la funzione non ha nemmeno punti stazionari e analogamente si fa lo studio per a minore di 0. Va bene?